Ciao a tutti sono Bomb777 e benvenuti in questo nuovo video con quale voce ho detto Vabbè oggi andremo a provare questo Matri Man of the Match Come potete vedere dalle statistiche e da tutto si può vedere benissimo come sia una grande carta di merda E lo dico veramente cioè perché non è chissà cosa È una carta normalissima però io allora ho deciso di farci apposta un video Perché sono pazzo e sono stupido Comunque non costa tantissimo cosa sui 10.250 non ha niente di positivo È un oro neanche raro probabilmente però è arancione quindi è figo E ci ho costruito una squadra intorno perché sapete che tante volte mi dite di fare squadre che possono servirvi in qualche modo Ecco io ho intenzione di farlo partendo da quest'estate però adesso già per darvi tipo un assaggio Ho costruito questa ibrida tra Serie A e Francia che proprio ibrida non è però più o meno Per appunto farci stare Matri però sto provando come esterni questo Lazarevic Il mio pupillo 90 di velocità 75 di dribbling è brutto come pochi soprattutto E dall'altra parte abbiamo Faria 87 di velocità 78 di dribbling per niente male Poi vabbè abbiamo un menese a caso perché sì Io comunque vi ricordo di mettere mi piace a questo video per avere altri squad builder così puntando un giocatore E vi ricordo di consigliarmi su che giocatore farli Però adesso andiamo a provare Matri L'obiettivo di Matri è fare tripletta faremo al massimo zero gol perché fa schifo Dai vabbè proviamo a cercare di fare il più possibile eccolo qua Matri Matri prova a passare Matri è fortissimo non è vero fallo però Dai testiamo il suo tiro su punizione Ma che succede l'agga tutto va Matri fuori di poco ma io non ho tirato neanche C'è un problema No 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 che fa che fa Marquetti aiuto Comunque Matri ha affilato i fucili ha affilato i mitra Anche se non può affilarli comunque Lazarevic occhio Occhio Lazarevic ma io voglio far segnare Matri quindi Lazarevic servirà solo di supporto Quanto è brutta la mia maglia oh che schifo fa E' una delle più brutte che ho mai visto Non ci credo Marquetti Che fai Cosa Cosa è successo Sono gli influssi questi è il potere psicologico di Matri Cioè ha cambiato tutto Fa pensare che i suoi compagni siano i suoi avversari e li fa sbagliare Guardate Ecco guardate avete visto non si è visto un bel niente Comunque l'avete visto nel primo coso ma è impossibile ma che fa Marquetti di merda Poi vi ricordate anche nella route to glory quante robe stupide faceva Marquetti Boh è leso Guarda Matri ubriaca tutti con le sue skin Lui aveva una stella Mossa abilità infatti si vede Menes va in percussione Menes Menes ma io non voglio segnare con lui Vabbè menes il tiro L'obiettivo è solo segnare con Matri Il resto non mi interessa Eccolo Punta ancora tutti Matri se ne va Scatenato Matri in area Matri non cade mai Matri Mitra Matri Cos'è No io volevo fare Mitra Vabbè che comunque non ci assomiglia per niente a Matri Ma fa niente 1-1 Guardatelo scatenato Col suo 80 di velocità Eccolo Eccolo Tira Sì Vidal Matri voglio dire Matri se ne alza pure Tira Vai si parte secondo tempo Ma perché ci chiamiamo Latina noi di squadra Boh Vidal si ferma perché non c'è Matri Vidal Giro Giro Ancora Matri Che mette il turbo Matri 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 in area Matri No Contro 4 Cosa volete voi che siete horror rai di merda Lui è arancione Lui è meno off the match Lui è figo Oh oh Me l'ha ribaltato No Il turbo avanza Non mi ha ribaltato un altro E passa pure Poi il turbo tira Eh sì Eh sì Eh sì Eh sì Che strano che mi ha segnato Dopo che è successa tutta quella roba Eh 2-1 Vidal C'è lo scatto L'ha visto L'ha visto L'ha visto Eccolo Matri Stende tutti Matri No Il nostro obiettivo era quello di Fare tre gol con Matri Ce l'abbiamo fatta? No Stiamo addirittura Stiamo addirittura perdendo Però Matri avanza Passa per il centro Matri In area Matri E segna E segna Lei ma la manda sul fondo Gete che muore Che sta male in campo Però il turbo la tiene Là c'è uno Aiuta Aiutatelo Poverino Cavani Eeeh Fermato Ma finisce qui Ecco E' stato utilissimo Fermarlo Purtroppo Matri E' una merda Si è rivelato veramente Un giocatore Orrendo Una carta schifosa E quindi Purtroppo Il mitra Ha squillato solo una volta Si perché il mitra squilla Il mitra Cosa fa un mitra? Ha mitrato Una sola Cos'è che fa? Ha sparato Una sola volta E purtroppo Abbiamo perso Però come già detto prima Lui è arancione Voi no Bastardi Quindi silenzio Vabbè Io vi ricordo di Consigliarmi altri giocatori Da provare Su cui costruire Delle squadre E io dovrò cercare Di disegnare con loro Però Che siano un pochino Più forti di Matri E se il video ti è piaciuto Mettimi un piaccio Iscriviti al mio canale E commenta Da bomb 7777 E' tutto Ciao a tutti